Marcello Corasini, veterinario alimentarista. Sono qui, ovviamente corso Setup Farm, per cercare così di far mangi di ragionare su ciò che vediamo in stanza. Sono molto soddisfatto della giornata, mi porto a casa, diciamo, come leggere alcuni segnali degli animali che magari consideravo banali, che invece possono avere un'interpretazione diversa o nuova rispetto a quella che pensavo. Sono Romolo Granata, sono allevatore di questa azienda, con titolare. È stata una giornata molto interessante. Mi porto a casa tanti spulti, con il vantaggio che appunto il corso ha trovato nella nostra azienda, quindi tanti spulti per riflettere su tanti particolari e su tanti idee che sono venute fuori nella discussione. Ciao, sono Michele Viganò, faccio l'alimentarista. Qui per approfondire alcune conoscenze, comunque alla luce del corso che mi è stato presentato mi sembrava estremamente interessante. Era anche inizialmente la curiosità. Sono estremamente soddisfatto del corso, ho trovato tutto estremamente soddisfacente e anche stimolante. La valutazione, l'estrema attenzione sulla valutazione dell'ambiente e l'approfondimento di come fare a valutare l'ambiente è stato decisamente interessante. Porto a casa uno stimolo nuovo e delle accortezze importanti da mettere a disposizione dei miei clienti per la risoluzione di alcuni problemi. Sono Rosati Alice, lavoro presso l'azienda Mangimistica Emilcap attualmente come tirocinante e svolgo attività principalmente di consulenza sulle produzioni biologiche sia a livello di zootecnia che agronomico e anche mi occupo di alimentazione e tecnico commerciale comunque. Siamo venuti qua per imparare qualcosa un pochino di più inerente ai segnali della vacca, a riconoscere a tutto campo quello che serve, quindi un controllo a 360 gradi di quello che può esserci in stalla. Sono molto soddisfatta soprattutto per aver imparato alcune cose di cui normalmente non si dà nell'occhio e invece risultano essere molto importanti. Mi porto a casa un bagaglio di conoscenze in più, soprattutto da integrare con tutti i miei studi universitari e con tutto quello che già attualmente sapevo a livello di lavoro. Grazie. 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 Grazie.